direi di iniziare subito 3 2 1 la tosse molto bene porca miseria fede mi cade la videocamera attraverso domande risposte che ognuno di noi no una cosa bella fede che dovrei montarlo tu questo figlio a banana ok sono maniche corti mi sto cagando di freddo dai sbrigati ciao ciao con quale parte di ho sputato cambiare il finale di un film perché ma povero jack jake cazzo se chiama ce la posso fare 3 2 1 via cani purtroppo non fa l'autobus oddio ho perso 45 kg di capelli questa la ripeto perché l'ho detta male cazzo fede mi sono dimenticata di prendere il capo di biancheria ah vabbè ma c'è io lo posso togliere smr sulla fronte oh mi scappava da lottare ho dei peli sotto l'ascello oh che sensazione molto smr molto bene ah no niente raccontate una punta che palle veramente cliccate sul bel visino di fede o il bel visino di tito per no però è pulito non avevo caccole bravissima io penso di essere molto fiero di che si è spenta la luce che vuoi dire? perca mattina ma luce sto cosa si è spento ma wow ora parte il minuto delle facce di mercoled mi sento delicente mi sento un coglione che cazzo che cazzo non tiene ma che domande fate mi avevi detto che te ne servono un po quindi quindi te ne faccio bo due tre quattro due tre mi ripetete un attimo il gioco di prestigio per favore che dovevamo fare quello con le dita sulle orecchie come era me lo fate vedere un attimo un momento ma finalmente non sono molto sicura che fosse così porca porca no dai ti prego cari fede la rifaccio sta reggisando niente fede cambio luce perché mi ha rotto veramente tre quarti di minchia se vuoi se sei riaccesa da nulla va bene cliccate sul viso di Tito sul riquadro Federica ti divertirai a montare questi video devo andare avanti basta spero 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 vadano bene fede veramente che sto sbloccando ciao bella fatta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.